Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Josue Mantoban che mi chiede di parlare del film del 2017 di Masaaki Yuasa, Lu e la città delle sirene. Film molto interessante con il classico stile del nostro regista che secondo me ha girato pochi film ma tutti magnifici, che sia Mind Game con Night is Short, Welcome Girl che è probabilmente il suo capolavoro, Ride Your Wave, il bellissimo Inuo e qui mi trovo appunto a parlare di questo film del 2017 che narra la storia di Kai, un ragazzo di 14 anni che ha appena avuto un divorzio praticamente dei genitori e che è costretto a tornare in questo paesino praticamente dove vive insieme al padre e al nonno, praticamente il nonno che fa gli ombrelli e un padre abbastanza assente naturalmente e quindi ha dovuto lasciare amici tutto e l'unica cosa che gli dà conforto in realtà è fare musica però di nascosto mettendola su internet e senza farsi scoprire. Un giorno però due ragazzini dell'isola che suonano anch'essi, Yu e Kunio, decidono di chiedere di far parte della sua band e c'è una leggenda appunto in questo paesino, questa isola dove ormai nessuno si avvicina più, dove dovrebbero vivere in quel mare le sirene che uccidono le persone. I nostri insomma iniziano a suonare e attirano in realtà Lu, questa piccola sirena che inizia a ballare e cantare diventando umana nel momento in cui viene attratta appunto dalla musica. Questo porterà ai nostri ad avere un piccolo successo in questo piccolo villaggino ma porterà anche in realtà il razzismo, la voglia di vendetta e un certo tipo di mentalità redrogada a voler attaccare questa sirena che viene considerata il male. E di lì poi tutto quello che succederà ai nostri protagonisti chiaramente. Per un film a livello tecnico secondo me è micidiale, come al solito il nostro ha un design favoloso nei suoi personaggi, riesce a creare dei mondi completamente innovativi proprio a livello visivo. Tutta la scena della prima volta che la nostra inizia a ballare è veramente fantastica con l'ombrello in mezzo a tutta la gente che balla in una maniera straordinaria proprio per la deformazione anche degli stessi caratteri che diventano sempre più interessanti, non solo intendo a livello caratteriale ma proprio anche fisicamente. La musica, questo diciamo J-pop così riesce però ad essere simpatico pur non avendo la forza secondo me compositiva delle canzoni di Nuo, però è simpatico e divertente e riesce un'altra volta a farci capire la forza della musica che riesce a scuotere in realtà il male delle persone e in questa cittadina doganale, questa cittadina dove in realtà si vive ancora come se fosse nel Medioevo c'è un certo tipo di amore fra i cittadini che sono comunque legatissimi ma però hanno chiaramente paura di ciò che è esterno in un certo senso e quindi seppur all'inizio questa sirena sembrerebbe essere presa bene dal nono in quella scena fantastica in cui fanno la ossa burocratica che vogliono far diventare la sirena praticamente la loro piccola mascotta e poi piano piano però diciamo così che l'odio e la cattiveria prendono sempre più piede grazie e purtroppo ai due anziani che sono convinti appunto di ciò che hanno visto cioè di aver visto uccidere dalle sirene i propri cari e di lì in poi comunque il film si muove ripeto attraverso personaggi assurdi questa sirena che qualunque cosa morde diventa sirena e quando inizia a mordere tutti i cani li fa scappare dal canile diventano i cani sirena di cui uno diventerà una mascotte è veramente fantastica così come sono interessanti tutti i protagonisti, i protagonisti comunque descritti benissimo la psicologia degli stessi è fantastica e il modo in cui cambiano, il modo in cui si muovono è veramente notevole, sicuramente non è il capolavoro del nostro, mi è piaciuto più chiaramente in uomo è piaciuto molto di più anche Mind Game, sai fare una classifica non fa mai parte di me però posso dire che questo film ha dei colori veramente abbaglianti ha un'idea di dimessa in scena che come al solito è una regia eccellente, i nostri movimenti di macchina fantastici, una ricostruzione eccellente, questa idea appunto dell'isola è eccezionale il primo incontro con la sirena diciamo quando tira su con quella specie di monolito ecco i pescatori di Frodo è veramente eccezionale e poi anche come si mostra e come si dimostra in realtà è così innocente per un film che è veramente una bomba sotto il punto di vista ripeto estetico, secondo me è fantastico, ci sono delle scene che sono talmente folli che un'altra volta fanno capire come il nostro ami il surrealismo, ami il grottesco eppure racconti una storia in un certo senso terrena seppur fantasy perché poi è la storia di un ragazzo che deve riscoprire l'amore, deve riscoprire la felicità e lo fa attraverso la musica e attraverso appunto le cose diverse che gli vengono proposte davanti alla faccia e non sempre seguendo i soliti stilemi che tutti vorrebbero, un film dove chiaramente l'astrattismo di fondo non viene mai abbandonato perché c'è sempre questa voglia appunto di cercare qualcosa che sia completamente fuori da ogni estetica eppure non essendo probabilmente il film come ho detto che pigia di più a livello di storia del nostro però riesce veramente col mare, con tutta questa libertà a rendersi sempre più interessante sul punto di vista appunto della creazione delle immagini, quindi un film molto interessante dove le tematiche e il contesto sono quelli del nostro Yuasa quindi la musica come certo tipo di liberazione, l'amicizia, la famiglia, l'impossibilità di capirsi e invece la voglia di unire determinate etnie in un'unica e sola soluzione umana. L'acqua però diventa un'altra volta la fonte di ispirazione per un regista che riesce col suo tratto a farci sognare delle scene euridiche che sono veramente incredibili e che vivono di una forza pittorica, è rarissima. In molti l'hanno accostato a Pogno ci può essere qualcosa nel senso forse di un certo tipo di rodondità della nostra sirena, compone tutto il resto ma se Pogno era ancora più un film da ragazzini seppur meraviglioso questo è un film in realtà un po' più adulto e trasforma questi adolescenti in qualcosa di diverso ecco e rende anche il tutto abbastanza drammatico nell'ultima parte nonostante poi ripeto le parti musicali, le parti ballate, è un film completamente come ho detto anarchico che vive assolutamente anche dei suoi difetti ma che riesce un'altra volta a sfondare perché secondo me questo vi è veramente un genietto e ogni film che fa comunque roba da vedere. Night is Short è per me il suo vero capolavoro ma tutto il resto comunque è sempre roba veramente incredibile quindi per me un film assolutamente da non perdere per chi ama l'animazione giapponese, per chi ha l'animazione, per chi ama il fantasy e per chi ama il grande cinema insomma il link del film è qua sotto, non è sul pato, non mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su youtube, seguitemi su facebook e su instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'italia e insomma ripeto questo Lu è la città delle sirene è un film veramente ganzissimo dove Lu la sirenetta è eccezionale come è disegnata, dove tutti gli altri protagonisti del film riescono comunque ad essere come ho detto ben descritti e tutto il resto ma la cosa che colpisce di più un'altra volta è l'estetica del film e la messa in scena e la regia di questo grandissimo regista nipponico che dimostra di avere un talento che ha davvero pochi uguali